invece ero curioso di capire dalla tua sensibilità che ha acquisito di questo strumento di twitch cioè cosa vedi cosa funziona per crescere cosa ho detto la secondo me è quello che funziona un sacco è che la gente ti deve prendere come se in videochiamata con te cioè gli devi dare proprio un senso di amicizia e di far sentire partecipi le persone che ti guardano perché su youtube su altri social sono partecipi però non tanto qua sono pseudo fondamentali quelli che ti guardano perché interagiscono molto di più con te quindi se sei in grado di interagire anche tu tanto con loro secondo me è una cosa che premia poi ovviamente ti premia se trovi il contenuto giusto e devi essere anche caratterialmente secondo me adatto perché è difficile secondo te qual è il caratterialmente adatto come tipo di o cioè ti deve piacere parlare nel senso se non ti piace parlare una piattaforma in cui devi parlare ma per cinque ore non è adatta diciamo c'è facchinetti sarebbe il dio di ma io gliel'ho detto che dovrebbe twitchare se non lo pagano in anticipo fra non lo pagano in anticipo fra non gliel'ha va grazie grazie